Rabbia dei tifosi dell'Inter, avete visto cos'è successo per Quadrado? È partita una vera e propria rivolta. L'arrivo del colombiano alla corte di Simone Inzaghi ha spiazzato tutti, anche gli stessi tifosi nerazzurri. L'operazione è stata di quelle lampo. Attenzione però, i tifosi dell'Inter non mettono in discussione le qualità di Quadrado, ma bensì qualche suo atteggiamento che non rispecchia, secondo loro, i valori nerazzurri. Nel pomeriggio, davanti alla sede del club in viale della liberazione a Milano, è avvenuto un corteo durato circa un'ora, come riportato da Sport Italia. Un presidio pacifico volto a sottolineare la contrarietà della tifoseria interista, in merito all'arrivo del colombiano, eterno rivale degli ultimi anni. La dirigenza in quel momento non era presente negli uffici, ma il messaggio del popolo nerazzurro è comunque arrivato. E non è finita qui perché la rabbia esplosa anche sui social. Cosa ne pensate di questo trasferimento?